Oltre 4.000 paia di scarpe sono state donate dall'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro al Comitato di Rosarno della Croce Rossa italiana. Le calzature sequestrate qualche mese fa, in quanto non conformi alle vigenti disposizioni sull'import-export, risultano in perfette condizioni e verranno distribuite ai migranti stagionali e alle famiglie indigenti che il Comitato assiste sul territorio della Piana. Il riutilizzo a scopo sociale delle merci sequestrate per ragioni amministrative o cadute in abbandono negli spazi doganali è un tema centrale per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ciò consente infatti di donare alle fasci più fragili della società beni di buona qualità, che altrimenti sarebbero stati destinati alla distruzione. Lo scorso anno lo stesso Ufficio dell'Agenzia dei Monopoli di Gioia Tauro aveva donato circa 30.000 capi di appigliamento e coperte alla popolazione ucraina attraverso un ponte di solidarietà realizzato in sinergia con gli uffici e la protezione civile di Verona.